Matteo Tosatto, altro successo straordinario di Gianni Moscon, due tappe su tre alla Tour of the Alps. Toso, un'altra bellissima giornata. Benissimo il sole, quello che è la cosa più importante. Cosa devo dire? I ragazzi sono stati bravissimi nella prima tappa, ieri hanno corso benissimo, ha vinto il più forte ieri Simon Yates. Oggi abbiamo tentato la fuga con Gianni già dalla partenza e il nostro piano ha funzionato, però sono stati bravi i ragazzi. Mi dispiace per la caduta di Pavel, ha fatto una brutta caduta in discesa, è rientrato senza problemi. Adesso vediamo, speriamo bene dai. Gianni così sapevi già, ce l'hai anche detto, insomma, a parte l'infortunio ovviamente che è tornato da grande. No, è tornato il vero Gianni che si conosceva anni fa, è solo merito suo che ha delle doti, si è messo concentrato, si è allenamento da solo, secondo me anche un po' tutte le cose anche sulla vita privata e che stanno andando bene, questa è la cosa più importante. A livello anche di testa poi chiaramente le vittorie aiutano, danno morale e quindi insomma lo vedremo al Giro d'Italia e a questo punto insomma. Penso di sì, le vittorie portano morale e sono super felice per Gianni e un grande applauso a tutti i ragazzi della squadra. Grazie Doso. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.